È una grande fortuna avere la musica, perché la musica davvero ti permette di giocare anche, di giocare anche con cose molto serie, di giocare con cose che magari ti hanno fatto del male, che hanno portato sofferenze in passato, ma poter in qualche modo raccontarle ti offre un'opportunità abbastanza sicura di interagire con esse, anche con le proprie problematiche. E quindi mi sento fortunato da quel punto di vista, ed è un modo anche bello per comunicare con gli altri, per creare un ponte con qualcun altro.